A tornare sul podio nella classifica dei migliori licei classici sono le scuole pubbliche che dopo anni di assenza guadagnano la medaglia d'argento e di bronzo e per quanto riguarda i licei scientifici delle scienze umane e gli ITIS a indirizzo economico e tecnologico confermano anche quest'anno il loro primato. È la fotografia scattata da Eudoscopio, l'Atlante delle migliori scuole superiori d'Italia che, stilato da Fondazioni Agnelli, evidenzia nell'ultima edizione la rivincita delle scuole pubbliche rispetto alle paritarie dopo alcuni anni di rallentamento soprattutto nei licei classici ma anche il riscatto delle scuole di periferia e dell'Interland. L'indagine che misura i risultati dei diplomati al primo anno di università o l'indice di occupazione nel caso degli istituti tecnici ha preso così in esame 1.267.000 diplomati in 7.500 scuole d'Italia nei tre anni scolastici 2015-2016, 16-17 e 17-18. Per la città di Milano la grande sorpresa riguarda soprattutto il podio dei licei classici che un anno fa era composto tutto da scuole private ed impronta religiosa con al primo posto l'Istituto Sacro Cuore seguito dall'Alexis Carrel e dal San Raffaele e con solo 5 scuole statali nella top 10. Quest'anno invece nonostante il Sacro Cuore confermi la sua posizione da capolista al secondo posto figura il liceo Vercè e al terzo c'è l'esploit del liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo che l'anno scorso non era nemmeno tra le prime dieci. Tra gli altri licei classici figurano poi il Carducci, l'Allende, il Manzoni, il Sant'Ambrogio, il Beccaria e la Setti Carraro. La classifica degli scientifici rimane invece pressoché invariata soprattutto sul podio, riconfermano il primo, il secondo e il terzo posto rispettivamente il liceo Leonardo da Vinci, il Volta e il Vittorio Veneto seguiti poi da Einstein, Sacro Cuore e Breda, Vittorini, Sant'Ambrogio, Vico di Corsico e dal Bottoni. Per i licei linguistici si conferma al primo posto il civico Manzoni seguito dal Maria Consolatrice e dal Virgilio che invece risulta primo per le oscenze umane. Infine per l'artistico medaglia d'oro ancora per il Sacro Cuore secondo l'Enrico Di Nicola di Sesto San Giovanni e terzo il Caravaggio. Nell'ultima edizione invece non compaiono alcuni dei più famosi licei milanesi rimasti fuori dalla lista e sono il liceo classico Parini e il Tito Livio.